dedicare un po' del suo tempo all'impegno civile e amministrativo delle proprie comunità è necessario che l'amministrazione provinciale, le province che in questa ultima fase sono state fatte oggetto di una critica veramente sverfeggiata al più non posso da demagogia di piazza senza senso e senza costruito, oggi la provincia di Foggia riallacci il rapporto con il territorio, con le comunità cittadine, parlando e discutendo insieme ai cittadini dei temi che più di tutto riguardano il nostro vissuto quotidiano e riguardano le necessità e le esigenze dei cittadini, per questa ragione abbiamo detto nella precedente seduta che qualsiasi sindaco o anche qualsiasi raccorpamento di sindaci può chiedere al Presidente della provincia di convocare l'assemblea di tutti i sindaci della capitana della provincia di Foggia in un particolare pubblico per discutere un problema qual si voglia